Domenico 8 gennaio, con una preghiera a Maria nel Santuario delle Grazie, il Vescovo Pierantonio ha fatto il suo ingresso in Diocesi dopo sette mesi. Era entrato in ospedale al San Gerardo di Monza l'11 luglio del 2022. L'uniti 9 gennaio, a mezzogiorno, ha incontrato la curia e ha rivolto un messaggio di saluto a tutta la Diocesi, introdotto dalle parole del vicario generale, Monsignor Gaetano Fontana, che gli ha ribadito l'affetto di tutta la chiesa bresciana. Il Vescovo, come dicevo a giugno, in lei vediamo il volto e la figura del padre, del pastore, della guida, che ci aiuta ad accogliere la volontà di Dio, che ci indica la via da seguire per vivere la fede cristiana nella chiesa e nella storia di oggi. Il Vescovo ha ricostruito le diverse fasi della malattia e ha ringraziato il personale medico per le qualità professionali e umane messe in campo, i familiari e la diocesi per la vicinanza e per la preghiera. Davvero io non ho parole per ringraziare il Signore. Mi piace riprendere questo passaggio del Magnificat, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Sono le parole della Madonna che sento particolarmente mie perché davvero c'è tanto di cui ringraziare. Ma sono anche consapevole che questo ringraziamento poi deve stendersi perché tante persone, voi compresi, intera diocesi, davvero io ho sentito, mi è stata vicina. Tante persone mi sono state vicine con la loro preghiera, questa preghiera che direi ha permesso alla grazia di Dio di operare, che si è trasformata in vocazione, in supplica, accompagnata da una vicinanza sincera che io davvero ho percepito e di cui vi sono molto molto grato. Si riparte dalla comunione che era stata chiesta e che è stata coltivata in questi mesi. Ecco, ora siamo qui, riprende il cammino, con tanta riconoscenza, con l'unico desiderio da parte mia di servire questa Chiesa, di servirla come merita. Voglio qui esprimere tutta la mia gratitudine a quanti in questi mesi si sono impegnati, davvero, si sono fatti carico del compito di guidarla, la Chiesa di Brescia, primo fra tutti il Vicario Generale. A cui facciamo un grande applauso. Con lui tutti i vicari, il Consiglio Episcopale in modo particolare, ma anche tutti voi, voi che fate parte del personale della Curia. Vi avevo raccomandato, forse ricorderete, quando ci eravamo visti l'ultima volta, di aumentare ancora di più il livello della comunione, del sostegno reciproco. Ecco, adesso a distanza, per quel che ho potuto percepire, vi devo ringraziare perché questo è accaduto, questo è avvenuto. Io, man mano che mi arrivavano le notizie, ci si sentiva, avevo chiara questa percezione, che si stava camminando insieme e che tutti percepivano la serietà del momento e il bisogno davvero di dare il massimo per il bene della nostra Chiesa.